Grazie a chi ha organizzato questa occasione d'incontro dell'invito e grazie ad Antonio che poi mi ha invitato personalmente. Grazie per l'invito ma soprattutto grazie perché sono contento di essere qui, perché mancavo da decenni. E qui mi sono laureato e quindi mentre si parlava ho ascoltato tutto con grandissima attenzione, credo di non aver perso nulla di quello che è stato detto, ma pensavo anche che sono passati 30 anni dal giorno in cui ero seduto dall'altra parte e ho pensato che se dovessero passare, se dovessero esserci, i prossimi 30 anni con la stessa fretta con cui sono passati i primi, nel senso che lo ricordo come se fosse ieri sarebbe un problema. Il tema è delicato e complicatissimo lo devo dire, il cuore del problema è stato indicato e questa difficoltà di individuare questo punto di equilibrio difficilissimo tra l'esigenza, credo da tutti avvertita, di una tutela avanzata del pericolo di inquinamento dell'economia pulita dovuto alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali e la necessità di assicurare un'adeguata garanzia alla in particolare libertà di iniziativa economica privata dell'articolo 41. Qualcuno dice anche la proprietà privata del 42, ma adesso ci arriviamo. Il tema è complicatissimo perché occorre, io penso, inquadrarlo in un ambito giuridico molto articolato, nel quale anche la disciplina e gli orientamenti interpretativi sovranazionali, non soltanto quelli della nostra giurisprudenza della terza sezione del Consiglio di Stato, si occupa. Io penso che prima o poi la questione arriverà in cedu, la questione della coerenza dell'ordinamento nazionale con, in tema di interdittive, con i principi della Convenzione europea. Infatti di qui voglio partire, però prima di partire di qui, ecco in realtà il prefetto annunziante mi ha già anticipato, volevo partire da alcuni numeri, sono stati già dati, ma alcuni mi hanno colpito, perché credo che la relazione più recente in tema di numeri, quindi volta a inquadrare la consistenza di questo fenomeno è la relazione ANAC del 2019 che ha fotografato il quadriennio 14-18 e l'escalation, diciamo, delle misure con effetti interdittive, comunicazioni informative con effetti interdittive è notevolissima perché si è passati da 122 nel 2014 a 580 nel 2018, quindi un più 378% di misure prefettizie che appunto comportano come noto l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, ma non soltanto questa, l'impossibilità di ricevere contribuzioni, sovvenzioni pubbliche, ma non soltanto questo, l'impossibilità di ottenere titoli abilitativi, quindi anche non è il rapporto con la PA che è impedito per effetto dell'interdittiva, ma anche la libera attività economica privata allorché assoggettata ad un titolo abilitativo, ad un titolo autorizzativo, ad autorizzazione, ad una scia, anche quello, anche questo è impedito a chi in presa è colpito dalla comunicazione o dalla informativa, naturalmente quella con esito non liberatorio, ma con esito interdittivo. Quest'escalation, come diceva Nunzianti, ha riguardato tutte le aree, non soltanto il sud dove l'escalation è consistente, si passa da 75 a 423, ma anche il nord si passa da 31 a 116, quindi c'è un aumento per così dire omogeneo nel Paese, del numero delle misure interdittive, che non significa che è aumentata necessariamente la mafia, è aumentata il numero delle interdittive. Ora, a che cosa è dovuto questo aumento delle misure interdittive? Chi lo sa, alcuni dicono che vi è un maggiore impegno delle prefetture, alcuni è anche una capacità negli anni più raffinata, per così dire, più avanzata delle prefetture, altri dicono che c'è un maggiore impegno, probabilmente sono vere tutte queste ragioni dell'autorità giudiziaria che alle prefetture trasmette gli elementi investigativi, altri dicono, e anche questo è una considerazione non mi pare per così dire banale o comunque da scartare che il livello di ingerenza del crimine organizzato, di stampo mafioso nel tessuto dell'economia legale sta crescendo e del resto che le mafie abbiano una vocazione economica e una vocazione imprenditoriale, non ce lo dobbiamo dire, è nella definizione dell'associazione mafiosa tutto questo. Il 416b definisce la mafia, l'associazione mafiosa per distinguerla dall'associazione semplice del 416 non soltanto nei metodi utilizzati, lo scopola il metodo di intimidazione da cui deriva lo stato di omertà ma nel fine anche, è un reato a dolo specifico perché il fine è proprio quello dell'accaparramento delle concessioni, degli appalti, al fine di ottenere concessioni, appalti si utilizza ecco il metodo dell'intimidazione, prevede l'articolo 416b. Come l'ordinamento prova a contrastare tutto questo? Lo fa col penale, con la prevenzione giudiziaria e con la prevenzione amministrativa direi. Il penale è il 416bis e poiché il tema anche della prevenzione amministrativa è quello della, è stato detto sin dagli interventi introduttivi, del rischio di fumosità descrittiva per così dire, dei presupposti applicativi delle misure interdittive. Attenzione che questo rischio non riguarda soltanto la prevenzione amministrativa ma questo rischio è ormai un rischio diffusissimo nel penale. Ecco, le maggiori critiche alla legislazione penale degli ultimi anni sono quelle con cui si dice che le fattispecie introdotte o descritte sono fattispecie a tasso di precisione descrittiva molto basso, molto sfumato e tutto sommato questo è stato sempre tra le critiche mosse al 416bis, soprattutto se il 416bis si moltiplica abbinato al 110 col concorso esterno in mafia. Le questioni di legittimità costituzionale del concorso esterno sono questioni prevalentemente di difetto, di precisione, di tipicità. Prima si diceva questo, adesso dovremmo dire di prevedibilità, ecco considerato l'importanza che questo principio di prevedibilità ha sempre più assunto. Io ricordo ero giudice a Taranto in un processo di concorso esterno in mafia, 110-416bis, non vi dico chi ma potete ricordarlo, un processo che ci impegnò per 4 anni concorso esterno in mafia e ricordo il professor Contento sollevò davanti al collegio questione di legittimità costituzionale del 110-416bis perché riteneva, ma era la dottrina che allora lo sosteneva anche diffusamente, che quell'abbinamento del meccanismo concorsuale ad una fattispecie quale 416bis già descritta con elementi per così dire non del tutto tassativi, puntuali, precisi, avrebbe comportato effetti di moltiplicazione incontrollata nell'applicazione di quella fattispecie associativa. La questione poi in giurisprudenza non è stata mai condivisa e come è noto il concorso esterno è lì ed è applicato, ancorché forse rigorosamente applicato dopo alcune svolte giurisprudenziali più o meno del 2005 credo, ma lascio perdere. Il secondo ambito è quello della prevenzione giurisdizionale e la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ma anche quello della confisca di prevenzione. della confisca di prevenzione. Sono misure giurisdizionali sì, ma sempre di prevenzione, non penali e sono misure, queste, sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sorveglianza per prevenzione personale, confisca antimafia, sono misure di prevenzione che molti problemi interpretativi hanno di recente posto quanto a precisione descrittiva dei relativi presupposti applicativi. Il terzo fronte di contrasto del fenomeno mafioso e degli effetti economici anche di questo è quello di cui oggi stiamo discutendo. Attenzione che la mafia, nella descrizione del 416 bis inquina l'economia, inquina le istituzioni anche e quindi sul fronte della prevenzione e della prevenzione amministrativa non c'è soltanto quello di cui oggi stiamo discutendo e cioè le interdittive, ma c'è anche lo scioglimento dei consigli comunali e anche degli scioglimenti, a proposito di scioglimenti dei consigli comunali, molto si è posto il tema della puntualità descrittiva dei presupposti applicativi e di recente nel 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del 143 del suo comma settimo nella parte in cui definisce i presupposti applicativi ritenuto in maniera fumosa la Corte Costituzionale non puntuale, non precisa, i presupposti applicativi non del potere di scioglimento ma del potere di sostituzione prefettizia al Consiglio Comunale. Quindi questo tema è un tema complesso quello dei rapporti tra legalità e queste misure, però vorrei partire dal secondo di queste tre gambe del contrasto alla mafia per verificare se quanto è emerso in questi anni su quella seconda gamba che non è il nostro tema, ecco abbia un'onda lunga e debba in un certo senso come è stato detto condizionare l'interpretazione, l'approccio, i nostri orientamenti anche le nostre chiavi di letture sul tema delle interdittive. Il secondo fronte è quello della prevenzione. Ora attenzione che qui parliamo di provvedimenti non meno impattanti, non meno ad effetti afflittivi rispetto ai nostri, quelli di cui stiamo parlando, perché stiamo parlando del provvedimento con cui questa volta non l'autorità amministrativa ma il giudice, il giudice della prevenzione, applica la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno incidendo sulla libertà di circolazione della persona fisica, quindi non su un bene patrimoniale ma su un bene personalissimo la libertà di circolazione. Stiamo parlando del provvedimento con cui sulla base degli identici presupposti applicativi il giudice confisca, confisca, cioè non impedisce per il futuro di contrattare con l'amministrazione ma adotta un provvedimento ablatorio che una parte consistente della giurisprudenza sostiene, della giurisprudenza non nostra, della giurisprudenza ordinaria sostiene, possa riguardare l'intero plesso aziendale, non singoli beni aziendali, è l'azienda tutta che viene confiscata perché si ritiene azienda per così dire alimentata dai frutti dell'attività criminale, lì parliamo della confisca e su questa questione, sulla questione della coerenza della legislazione nazionale con i principi, in parte qua con i principi CEDU, ecco c'è stato un dibattito vivacissimo in questi anni, un dibattito che mi è alimentato, un dibattito avviato da una importantissima decisione della Corte EDU, la Corte EDU de Tommaso del 2017, i cui seguiti finali sono quest'anno in Corte Costituzionale 24 e 25 del 2019, la questione che si è posta, dico questo e poi vengo subito alle interditive, la questione che si è posta è se la nostra legislazione nazionale, nella parte in cui individua due presupposti applicativi di quelle misure, la sorveglianza e sul piano patrimoniale sequestri e confische, sia coerente con alcuni principi, tra cui in particolare il principio di legalità di cui ormai è proiezione applicativa, ecco unanimemente desunta, quello della prevedibilità, cioè la necessità che ciascuno di noi quando agisce, prima di agire, sappia sulla base dell'ordinamento vigente, sappia che possa prevedere che il suo comportamento implicherà conseguenze di tipo sanzionatorio o comunque ad effetti afflittivi. I presupposti applicativi di quelle misure sono il fatto di, ecco anche lì c'è una, è la pericolosità sociale, una pericolosità talvolta qualificata perché collegata al fatto di essere indiziato di associazione mafiosa per esempio, imputato nel procedimento ex articolo 416 bis. E su altro fronte la pericolosità cosiddetta generica, ecco c'è un soggetto che non è indagato, non è imputato ma è dedito abitualmente a traffici delittuosi, così cita l'articolo 1,1 lettera del codice antimafia. Ho un soggetto che non è indiziato, non è imputato e vive abitualmente dei profitti di delitti, così dice l'articolo 1,1 lettera B del codice antimafia. Sulla base di questo si applicano i giudici, non i prefetti, i giudici applicano la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sulla base di questo i giudici possono arrivare ad applicare le confische, essere abitualmente dediti a traffici delittuosi. Ci si è chiesti se questa previsione legislativa italiana che individua così il presupposto applicativo di queste misure sia coerente col principio di legalità implicante un'esigenza di precisione descrittiva e soprattutto di prevedibilità delle conseguenze della propria condotta. E la giurisprudenza cedu de Tommaso 17, Corte Costituzionale, l'ottimo Viganò nel 2019, hanno sostenuto questo, che queste misure di prevenzione, avete prospettato che le nostre, le interdittive abbiano natura penale, le misure di prevenzione che comportano che un soggetto non può più muoversi da un comune, sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e che la sua impresa sia confiscata non per il futuro, soltanto per il futuro, divieto per il futuro di contrarre, ma sia ablata, la Corte Costituzionale ha sostenuto, cedu e Corte Costituzionale, hanno sostenuto che queste misure innanzitutto non sono penali, non sono misure penali, perché lo scopo di queste misure è uno scopo appunto di, per l'appunto prevenzione, di tutela preventiva, ancorché abbiano pesanti effetti afflittivi. Questo ha detto la Corte De Tommaso, questo ha detto la Corte Costituzionale quest'anno. Attenzione che qui il dibattito è vastissimo, non ne usciamo più se dovessimo affrontarlo, perché è un dibattito che va affrontato sulla base della cosiddetta concezione autonomistica degli illeciti penali, ruotante attorno ai criteri Engel, ormai questa distinzione fra amministrativa e penale, fra natura amministrativa e natura penale delle sanzioni, è una distinzione ormai fumosa, perché è affidata a criteri sostanziali, non più formali, per cui lasciamola da parte. Ciò che però è importante evidenziare è che nonostante la rilevata natura non penale, non penale, la Corte Edu e la Corte Costituzionale hanno ritenuto, che ad essi si applica ugualmente il principio di legalità, perché queste misure incidono su beni, il bene della libertà di circolazione, la sorveglianza speciale, il bene della proprietà, la confisca antimafia, che sono tutelati dalla legge, da una legge che prevede che limitazioni alle stesse devono essere previste dalla legge in maniera puntuale, in maniera tassativa, in modo che siano prevedibili le conseguenze della propria condotta. Quindi ormai è quasi rilevante che abbiano natura penale o natura amministrativa queste misure, perché anche a ritenere che abbiano natura penale o anche a ritenere che abbiano quale che sia la natura devono rispondere ad un principio di legalità che ormai si è rafforzato nell'ordinamento e implica prevedibilità delle conseguenze penali. Però la natura amministrativa e non penale una implicazione ce l'ha, perché la giurisprudenza tanto c'è di quanto della Corte Costituzionale ha sostenuto che quando la natura è amministrativa o comunque non penale, quell'esigenza di prevedibilità può essere soddisfatta anche in assenza di una legge precisa e puntuale, a condizione che questo deficit di precisione descrittiva della legge sia colmato da un'interpretazione tassativizzante dei giudici. Quindi l'importanza della natura non penale e quelle misure di prevenzione non erano penali, le nostre interdittive non sono penali, è tutto sommato qui che ci può essere un deficit descrittivo della legge ma colmato però da un'interpretazione tassativizzante dei giudici. Sì che spostandoci alle interdittive antimafia occorre verificare se questa legalità e questa prevedibilità siano garantiti dal combinato legge e giurisprudenza, legge e cointerpretazione più o meno tassativizzante dei giudici, nel nostro caso purtroppo siamo noi, noi giudici amministrativi, noi giudici della terza sezione. Attenzione però che io non sono preoccupato, sono molto preoccupato delle interdittive, è un tema che mi preoccupa molto per le ragioni che avete benissimo messo fuoco, ma questa prevedibilità è messa in discussione nel penale, non nell'amministrativo. Oggi il reato di inquinamento ambientale, che è un bel reato se guardiamo alle cornici sanzionatorie, alle cornici editali, siamo nel penale pieno, il reato di inquinamento ambientale è descritto dal 452 bis come il reato di chi inquina abusivamente, non c'è scritto nient'altro, il reato di chi inquina abusivamente. Noi ci stiamo preoccupando oggi, giustamente, se l'articolo 84 descrive puntualmente i presupposti applicativi delle misure amministrative e interdittive. Attenzione però che si sappia, e voi lo sapete bene, che i reati ormai sono descritti sempre più di frequente con una tecnica che non sempre, per così dire, soddisfa il principio di legalità inteso nel suo aspetto qualitativo, di precisione e quindi di prevedibilità delle conseguenze penali. Ma spostiamoci alle interdittive.